Il turismo è risorsa importante per il territorio, proprio per questo è stato organizzato un corso, non il primo, da chef. Sì, questo è il quarto corso da chef che noi svolgiamo, perché siamo convinti, e questo lo dice anche il titolo dell'evento di oggi, che visto che siamo in un momento felice per il turismo della Liguria, bisogna costruire gli strumenti perché questo momento felice prosegua. Uno degli strumenti da utilizzare, che chiediamo sia molto efficace, è quello di avere personale estremamente specializzato. Per cui abbiamo riproposto questo corso da chef che nel passato ha dato ottimi risultati occupazionali su tutto il territorio nazionale. Un corso da chef che ha dato ottimi risultati occupazionali, proprio a dimostrazione dell'importanza del turismo all'interno del nostro territorio. E' proprio così? Può essere ancora un volano? E' ancora in via di evoluzione? Non può essere ancora un volano. Sarà sicuramente un volano per la nostra economia, perché al crescere degli arrivi e delle presenze, si accresce la possibilità di creare posti di lavoro. Naturalmente tutto questo deve essere abbinato alla qualità, perché crescendo la qualità dei servizi che offriamo, cresce anche la qualità dei turisti che vengono in Liguria, quindi al crescere della qualità dei turisti cresce anche la quantità di spesa che si fanno sul nostro territorio. E quindi è la dimostrazione, proprio questo corso, che accrescendo la qualità si possono creare posti di lavoro al servizio del turismo, senza dimenticare gli ottimi dati che abbiamo avuto nel 2017, dove è stata superata per la prima volta negli ultimi dieci anni la quota dei 15 milioni e 500 mila presenze. Quindi dati positivi che ci fanno capire qual è la strada per il futuro. Naturalmente le presenze non potranno crescere a dismisura, quindi è già un successo essere aumentati del 3% rispetto all'anno scorso, ma ci sarà un grande impegno appunto per far salire la qualità, come abbiamo dimostrato anche con i bandi che abbiamo fatto, tesi tutti a far sì che la qualità non solo delle strutture ricettive, ma anche dell'idea di turismo in Liguria, in Liguria cresca. Quanto è importante migliorare la qualità dei servizi per dare una spinta in più anche al turismo? Beh, direi che è essenziale. I numeri sono dalla parte nostra, come l'incremento del turismo è esponenziale tutti gli anni, però il turista come viene può anche rivolgersi altrove, se non trova la qualità, se non trova il servizio, se non trova le eccellenze enogastronomiche e le capacità anche delle strutture e delle figure professionali di cui necessita il turismo. Quindi attenzione massima ai servizi, attenzione massima a crescere, a migliorare. E quindi ci auguriamo che eventi come quello di oggi servano proprio perché, per fare il futuro.